ciao se vuoi guardare come tornano le miei clienti dopo quattro settimane seguimi sulle storie di instagram al profilo le unghie di micole tutti i prodotti che vedi nei nostri video e molti altri sono disponibili sul nostro sito www.leunghiedimicole.com approfondisci la tua formazione sul manuale tecnico la ricostruzione unghie secondo micole che trovi in vendita su amazon lì ho descritto tutte le tecniche per la dry manicure e la ricostruzione unghie da salone oppure iscriviti al mio corso online ora disponibile anche a rate per accedere subito a 48 lezioni registrate e ad un gruppo chiuso di facebook dove tutti i giorni condivido con le ragazze contenuti esclusivi al raggiungimento degli obiettivi se vorrai potrai ottenere tre attestati uno per gel uno per gel acrilico e uno per i trattamenti semi permanenti non perdere nessun tutorial e nessuna spiegazione tecnica iscrivendoti al nostro canale di youtube le unghie di micol se il video ti è piaciuto vuoi vederne altri come questo metti un like e condividi grazie